Finalmente ci siamo, ricarica al massimo, ci troviamo oggi all'Oratorio Negrone con Gabriele e il suo gruppo che adesso vado a presentare. Ciao Gabriele! Ciao a tutti! Mi piacere, sono Stefano! Mi piacere, Giuliano! Ciao a tutti, sono Don Antonio! Ecco Gabriele, oggi cosa organizzaste all'Oratorio Negrone? È la prima volta? È un evento? È un evento nuovo per ripartire dopo tutto ciò che è successo e vogliamo ripartire la grande, unendo tutte le associazioni che abbiamo trovato qua in zona per dare un buon servizio a Vigevano, un servizio ludico ricreativo per tutti i giovani, gratis, quindi creare il nostro scopo è quello di creare un polo, un polo per ragazzi dove possono condividere le proprie passioni. Oggi abbiamo visto tanti gazebo che poi andiamo ad elencare, facciamo parlare anche Federico? Sì, va bene, va benissimo. Cosa organizzate oggi pomeriggio? Allora, oggi pomeriggio è organizzata una sorta di caccia al tesoro a stand, ci saranno diverse associazioni, diciamo che noi abbiamo tentato di prendere la peculiarità delle associazioni sotto forma di gioco, per far capire ai genitori proprio la caratteristica delle varie associazioni che presentiamo in oratorio. E poi andrete anche avanti? Sì, sì, questo è appunto per ripartire, da oggi in poi l'oratorio riaprirà in generale con le varie associazioni e attività, quindi apriremo settimana prossima. Avete una pagina Facebook? L'oratorio Negrone e anche Instagram. Così la gente vi può seguire lì. Sì, speriamo. Va bene, grazie. Grazie mille. Niente.